Musica E ragazzi, ciao a tutti e come state? Voi sapete già chi io sono, ma oggi sono così teso ragazzi Da non riuscire quasi a parlare perché infatti è giunto il momento tanto atteso Dopo ormai all'incirca un mesetto dall'inizio di questo torneo Siamo giunti alla finale della DV Cup E ricordo, il vincitore avrà la possibilità di volare a Berlino Beppe Poiché infatti la Divmove ha offerto questa sorta di viaggio appunto al vincente di questo torneo Quindi, la parola è una sola Vincere e noi ci proveremo E oh mio Dio ragazzi Finale contro chi? Non so se l'ho già detto Ma sono contro FIFA Gamers E ragazzi, come potete vedere mi sono fornito della bandana della vittoria Bandana della rimonta Chiamatela come volete Per sicurezza, me la metto subito ad inizio partita Detto questo, andiamo ad invitarlo Fabio Partita secca ragazzi Voi non avete idea della mia tensione Madonna, non riesco neanche a parlare Mi sto vivendo anche sotto Ma no ragazzi, andare a Berlino Oddio mio No, sono troppo preoccupato Per quale ci porto così tanto? Sto morendo Madonna, madonna, madonna Dov'è la nostra mascotte? Dov'è la nostra mascotte ragazzi? Oggi il vecchio Baymax ci farà da mascotte Dai Il vecchio Baymax ti osserverà Ragazzi è entrato Oh mio Dio Storu E ragazzi, porteremo il classico Facile.it, facile.it, facile.it Andiamo a metterci questa formazione E ragazzi, sentiamo il discorso del buon vecchio Al Pacino Tre minuti Alla nostra più difficile sfida professionale Tutto si decide oggi Ora noi O risorgiamo Come squadra O cederemo Un centimetro alla volta Uno schema dopo l'altro Fino alla disfatta Siamo all'inferno adesso Signori miei Credetemi Ma io non posso obbligarvi a lottare Dovete guardare il compagno che avete accanto Guardarlo negli occhi Io scommetto che ci vedrete un uomo determinato A guadagnare terreno con voi Che ci vedrete un uomo Che si sacrificherà volentieri per questa squadra Consapevole del fatto Che quando sarà il momento Voi farete lo stesso per lui Questo è essere una squadra Signori miei Mamma mia Andiamo a Berlino Non andiamo a Berlino Mamma mia Andiamo Non andiamo Madonna mia Che cos'era Che cos'era Stava addirittura zitto Bravo Daniela Sperge palla 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 Che dia Che dia Bella Bella Cavalta 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 Nonni 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 Porta subito E manda Questo Real Al quarto minuto Cristiano Ronaldo Cavalchiamo così Piano adesso Piano Buono Cargherino giallo per lui Incredibile Di là Come l'ho giocata Palla per Marcelo Marcelito Marcelito La mette in the middle Dove non c'era nessuno No Madonna Cosa sei mangiato ragazzi No Non ce la fa Non ce la fa Sto morendo Ronnie 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 Che giro di merda No Ronnie Che cos'era Che cos'era Che cos'era Calcio d'angolo La mette C'è il senchidino Mamma mia Che testa Spero stava per fare il senno Mette C'è Ronnie C'è Ronnie di testa Madonna Il cuore di volta Che gira No Di partenza Occhio Occhio Attenzione No Ronnie 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 Che c'era Ronnie Che c'era La merda Che c'era 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 Potevano fare anche di più Temo, temo, sto temendo Sto temendo ma ne usciamo, non è vero Non siamo usciti Che cosa sei mangiato? Che cosa sei mangiato? Questo era 2-1, netto Madonna, no, questo intervento È da, è da, ma che Che cosa gli ho preso? No, ma perché No, ragazzi, insomma, non sono dei miei comandi Attenzione, confusione più totale Buono Ma perché mi iniziano a fare queste cose? No, ragazzi, sto delirando Sto e i miei giocatori stanno a loro volta Benissimo, benissimo Benissimo, 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 benissimo Benissimo, no, l'avevo anche scartato L'avevo anche scartato, ce la siamo giocati Ci siamo giocati, ci siamo giocati Allora qua, è già Bello, bello, alla bricare Uh oh, retard alert Ma di testa la va a controllare Ma scherziamo No, ma anche qua Ma perché? Sei venuti a qualcosa Siete venuti a qualcosa, ragazzi Sei venuti Bella palla per il Benzi Non c'è nessuno Non c'è nessuno In sé, ma che madonna cazzone Madonna cazzone Ronny, Ronny, Ronny Ronny, Ronny Le corre Oh mio Dio Calmiamoci tutti Questo era doppio giallo Cante vino rosso Berlino è sempre più vicina Berlino è lì Arbitro, porca Arbitro, per il finizio Ed è finita Andiamo Non è finita Non è finita Non è finita No, è finita Arbitro Fischi Arbitro Ed è finita Andiamo Queste le statistiche 9 tiri a 4 5 non importa E ragazzi Volevo dedicare Questa vittoria A tutti i vostri Ai vostri iscritti Non ai miei Ai vostri O meglio Non a tutti i miei iscritti Bensì a tutti Tutte le persone Che stanno guardando Questo video Poi che infatti Ora come ora Io ho solo iscritti Vedelissima cosa Mi fa stra piacere E successivamente Volevo dedicarla Anche ad Artic E a WinLeaks Dunque ragazzi Abbiamo vinto E adesso non so Come andranno a finire le cose Però teoricamente Si è riuscita a portare a casa Un viaggio a Berlino E adesso Dovrò sentire un attimo appunto Lo staff di Dimunferi Tutto Ma ragazzi Non credo Però ci sarà anche una coppa E ragazzi Campioni di Ibica Andiamo a prenderci Il viaggio a Berlino E ragazzi Sono gasato La bandana colpisce ancora Nooo Wuhuu Salve campeone Vamo Bye